Grazie a tutti Mi sono vicino Cosenza Ah, di dove precisamente? In una montagna sperduta, si chiama Domanico Ah, ho capito, quindi sei un calabrese Sono un calabrese doc E sei Piero nel film Che si chiama Piacere, io sono Piero Benissimo, hai lavorato con l'ispettore Montalbano Sì Quindi nel grande schermo già ti conoscono Sì, sì, direi proprio di sì E questo film come ti pare? Spero buono, sì, mi sembra bello Non lo so, quando si fanno non si sa mai Però mi sembra tutto ok Sei contento di questa? Sì, sì, assolutamente Ti piace stare qui a Tropea? Sì, 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 è bello Qualcosina di particolare per il mio blog Tropeaperamore.it Penso che questa sia la fascia di costa più bella della Calabria Ma non è oggettivo, non c'è bisogno di dirlo Non particolare No, c'è sempre bisogno di sentirselo dire No, no, è vero, è vero Insomma, c'è Capo Vaticano qui vicino Insomma, questo è meraviglioso In bocca al lupo per fine Grazie per esserci Buonasera Enzo Allora Come stai? Bene Tu come stai? Io tutto a posto Questo film come procede? Sta procedendo molto bene Allora, come si chiama il film? Piacere io sono Piero Piacere io sono Piero Eravate in backstage adesso? Sì, adesso Avete già finito? Eh? Dove la dobbiamo fare? Si aspetta che mamma Scusa, non gioca Prego Non ho paura di queste cose io Non ho paura di queste cose io Guarda ora Siete pronti? Mentre sta la casa Sì Sei Partiamo Motore Vedi Con la battuta Azione Che una vita mi porti? Oggi tu è bella foglia verde Come la battuta È bravo Non ci sai fare veramente Non va bene con le battute Se no non hai buono Solo dare Sì Sì Aspetta Aspetta Attenzione All'ombra Passate un attimo Uh Luce Perfetto Ok Il motore è partito Perfetto Azione Motore Ok Motore è partito Azione Ciao 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 Lucio Cosa state facendo qui? Stiamo ammirando Il backstage? Eh sì Lella che dici tu? Ti piace questo backstage? Sì Sì E tu Maria? Sì sì Direi proprio di sì I missili sono finiti? Insomma Ogni tanto A terra Qualcuno a terra Ciao bella Sì 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 sì